Abbiamo con noi niente po' di meno che Eric Medved, che anche lui viene dall'Università di Trieste con la brutta abitudine di fare il professore, tra l'altro, e si occupa di un sacco di cose, tra cui anche Machine Learning, e ci parlerà della complessità delle macchine intelligenti. Ti lascio il microfono. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti e ribenvenuti. Spero di tenere alto il livello come ha fatto il primo oratore. Il mio talk però sarà un po' più basso dal punto di vista tecnico. Guarda caso, incidentalmente, andrò a trattare un po' la tematica che è saltata fuori alla fine dell'intervento precedente su cosa sia la creatività. Questa è una domanda molto più difficile di quella di cui andremo a parare qui, ma la creatività come forma di autonomia nelle scelte spesso artistiche è una forma di autonomia, la capacità di scegliere, che è una caratteristica di entità che possono appunto compiere delle azioni, diciamo liberamente. Questo sarà un po' il tema su cui andremo a parare. Ok, allora sì, sono già stato presentato, giusto però per circostanziare un po' meglio, io mi occupo di machine learning, da un punto di vista soprattutto dell'insegnamento, ma da un punto di vista di attività di ricerca mi occupo di vita artificiale, che è più o meno il tema di cui parleremo questa sera, e applicazioni di particolare tecniche di ottimizzazione alla robotica, robotica però diciamo simulata, quindi ahimè non ho a che fare con dei veri oggetti fisici che fanno cose. Allora partiamo, la prenderò molto 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 la lontana, partiamo da tantissimo tempo fa. L'umanità, quando era ancora poco più che un gruppo di scimmie, inizia a capire che ci sono certe attività prevalentemente manuali che costano molto sforzo, vanno fatte spesso perché sono utili al sostentamento e quindi diciamo sarebbe utile che siano parzialmente o totalmente automatizzate. A parte questa lunga descrizione vi faccio un esempio che dovrebbe essere facile da cogliere, l'umanità scopre che del grano polverizzato diventa farina, che questa farina con un po' di acqua e le giuste condizioni di temperatura dà il pane, che il pane è molto buono, e dice vabbè ma io di battere i granelli di grano con un sasso per produrre tanto pane non ne ho voglia perché è un'attività molto dispendiosa e inizia a costruire dei macchinari via via più sofisticati per effettuare questa trasformazione meccanica della materia, un oggetto concreto, il grano, in un altro oggetto concreto. All'inizio con strumenti molto, vengo direttamente qua, molto primordiali, delle ciotoline di pietra e dei oggetti di pietra per battere il grano e poi costruendo macchine via via più sofisticate che aumentano la loro capacità di processamento della materia, processando più materia con meno energia o in meno tempo e producendo via via macchine sempre più complesse. Qui abbiamo un esempio banale dei mulini. Sappiamo poi che nel corso della storia l'umanità ha svolto questa attività di automatizzare il processamento della materia sempre più spesso in maniera appunto sempre più sofisticata. Ad un certo punto però l'umanità ha iniziato a capire che non è solo il processamento della materia che è utile automatizzare, ma è utile anche automatizzare il processamento dell'informazione. Informazione che per sua natura è essenzialmente immateriale, cioè non entra nell'oggetto che processa, non entra della materia, esce della materia processata, non entra il grano ed esce la farina, ma entra informazione che non si vede, non si tocca, ma è importante ed esce informazione auspicabilmente raffinata, dove con raffinata intendo potenzialmente più utile. All'inizio magari dei mercanti dovevano tenere dei registri sulle spese, sui traffici e dovevano fare dei calcoli e hanno iniziato a pensare che automatizzare questi calcoli rendeva la loro vita più facile e quindi si sono iniziate a produrre delle macchine. Qui vediamo macchine che appunto processano automaticamente l'informazione come i mulini facevano con la materia. Qui vediamo due esempi, questo è un esempio primordiale di calcolatore, un oggetto meccanico in cui si impostavano alcune levette, alcuni meccanismi per inserire l'informazione si innescava l'esecuzione, non so come, non ho fortunatamente l'età per ricordarmi come, si innescava l'esecuzione e dopo un po' di tempo saltava fuori l'informazione raffinata, probabilmente è un qualche calcolo. Sappiamo che questa è una cosa relativamente molto più recente chiaramente della pietra per macinare il grano nella storia dell'umanità, ma su questo siamo stati molto più veloci, tant'è che qualche anno fa, quello lì magari me lo ricordo meglio, qualche anno fa abbiamo iniziato a produrre macchine che processano tanta informazione e lo fanno molto velocemente, automatizzando quindi un altro dei nostri compiti, probabilmente l'altra metà dei compiti che è l'umanità, a prossimo assumendo che non ce ne siano di altri, elaborare cose materiali ed elaborare cose immateriali. Ora, i computer li conosciamo più o meno tutti, come funzionano i computer o meglio, come si usano i computer? Beh, c'è sempre un essere umano che in qualche maniera progetta e auspicabilmente realizza l'algoritmo, che è semplicemente una parola più sofisticata per dire la procedura, con cui l'informazione viene automaticamente processata da parte del calcolatore, l'esecutore. Questo non è tanto dissimile da quello che avveniva col mulino, ok? C'è il progettista del mulino che decide qual è il movimento che devono fare tutte le parti meccaniche del mulino, perché ha in mente qual è il processamento desiderato, vuole mettere il grano e ottenere la farina. Qui succede la stessa cosa con una differenza però importante, un unico macchinario, il calcolatore, è in grado di fare molti tipi di processamento diverso, a patto che gli si dia l'algoritmo o la procedura giusta, ok? Beh, questo non è misterioso e chi di voi ha avuto modo a che fare con i calcolatori, presumo tanti, sanno che queste informazioni, cioè il modo in cui l'informazione viene processata, si possono fornire con diversi livelli di dettaglio e con diversi, diciamo, metodi, se vogliamo, linguaggi, si può andare da linguaggi molto vicini a quello che tra virgolette piace vedere la macchina, ok? Numeri, a linguaggi intermedi che descrivono delle procedure in un linguaggio quasi naturale, vedete questo, molte di queste cose, vedete qui, sono parole prese in prestito dall'inglese, non perché il calcolatore parli inglese, ma perché l'essere umano vuole sapere cosa sta scrivendo, fino ad arrivare a linguaggi visuali, come questo, in cui le istruzioni che compongono la procedura di processamento dell'informazione sono specificate tramite degli oggetti che si vedono, ok? E quindi rende tutto molto più semplice, infatti quello lì a destra è spesso utilizzato in ambito educativo. Sostanzialmente tutte queste cose sono modi in cui l'essere umano, il progettista della procedura secondo cui l'informazione viene processata descrive quella procedura. Una volta che la procedura è stata descritta la si dà il calcolatore che la esegue e sappiamo tutti, sapete tutti se l'avete fatto, che se le istruzioni non sono state definite correttamente il calcolatore non esegue quel processamento che speravamo. Ci possono essere vari esiti più o meno nefasti, ne esegue uno che scopriamo ci va comunque bene, ne esegue un altro che è completamente sbagliato, non viene fuori l'informazione che volevamo, immaginate metto il grano e invece di uscire farina escono delle foglie. Non va bene, però questo non è un esito particolarmente nefasto, poteva esplodere tutto. E ci sono casi in cui semplicemente il calcolatore dice no, io non so cosa mi stai chiedendo di fare, non sono capace. Perché è importante definire correttamente, diciamo col dettaglio adeguato, la procedura di processamento di informazione? Perché il calcolatore è un mero esecutore. E cosa intendiamo con mero esecutore? Che non va a riempire quelle mancanze informative nella descrizione della procedura che abbiamo lasciato noi, se le abbiamo lasciate, se siamo stati bravi non le abbiamo lasciate. E cosa vuol dire che non va a riempire quelle mancanze? Vuol dire, se pensiamo al calcolatore quasi come un essere umano, che non va a metterci del buonsenso. Se io dico a una persona tra voi, dai ti do le istruzioni per preparare un panino. E dico, allora prendi un panino e taglia il pane. Tutti voi probabilmente lo tagliano nel verso giusto, giusto secondo il senso comune. Ma tecnicamente taglia il pane potrebbe essere fatto in molti modi. Lo taglio a fettine, parallele ma per lungo, lo taglio a caso, faccio un unico taglietto in fondo. Insomma, ovviamente tra tutti questi modi pochi sono quelli corretti. La persona chiaramente non taglia il pane nel modo sbagliato perché ha quello che noi chiamiamo buonsenso, che la macchina non ha. Ma attenzione, questo buonsenso, se poi andiamo a vedere, non è una caratteristica innata. È il fatto che la persona, la persona media, ha nella sua vita visto un mucchio di panini tagliati e ha preso nota di come si fa. Il calcolatore, almeno quello che vediamo in questa foto, poi iniziamo a vedere che i calcolatori hanno visto tante cose, però tendenzialmente, se pensiamo al calcolatore, quello banale, non ha visto tutte queste cose. Io lo accendo, inserisco il mio programma, è come se lui fosse nato nel momento in cui inserisco il programma. Non ha visto nulla prima, non ha il buon senso. Quindi il calcolatore è un mero esecutore, è un oggetto che noi esseri umani abbiamo inventato per fare meno fatica, per processare l'informazione automaticamente, ma è un mero esecutore. Cosa vuol dire che è un mero esecutore? Dicevo, non ha buon senso, quindi non fa per noi quelle scelte che noi non abbiamo fatto esplicitamente nella procedura che abbiamo descritto. Abbiamo descritto una procedura ambigua, taglia il panino, ma non abbiamo detto come, e il calcolatore non risolve quell'ambiguità. Risolvere un'ambiguità vuol dire che tra le possibili scelte che si potrebbero fare per fare una cosa che non è stata descritta in maniera dettagliata, se ne fa una. Questo fare una scelta è una forma di autonomia. Qualcosa che risolve un'ambiguità, una persona di voi che decide di tagliare un panino in una certa maniera, nonostante io non abbia dato le istruzioni, esibisce un certo grado di autonomia, fa una scelta. Bene, il calcolatore, così come l'abbiamo visto fino alla slide precedente, non ha questa capacità, non è autonomo. A un certo punto però l'umanità ha iniziato a rendersi conto che c'è ancora una cosa che non vogliamo fare, che siamo pigri e vogliamo delegare a qualcuno. È proprio la capacità di prendere decisioni, risolvere certe ambiguità, magari non tutte le decisioni, non con chi e quando dobbiamo sposarci, beh oddio qualcuno, ci sono delle applicazioni che permettono, però diciamo delle decisioni magari di meno, più bassa importanza. Perché è importante? Perché abbiamo deciso che sia importante che ci siano delle macchine che prendono decisioni al posto nostro? Beh ci sono molti motivi, qui ne elenco alcuni, ci sono molti casi in cui le decisioni vanno prese molto velocemente, oppure in grandissima quantità. Molto velocemente intendo in millisecondi e in molti casi l'essere umano, almeno l'essere umano medio, non è in grado di prendere una decisione in pochi millisecondi. In grande quantità vuol dire che ne vanno prese tantissime nelle unità di tempo e nessun essere umano, anche quello che è in grado di prenderne una molto velocemente, è in grado poi diciamo di farlo a ritmo sostenuto. Farò qualche esempio. Ci sono casi in cui le decisioni vanno prese neutralmente, cioè per definizione senza che ci sia qualche esperienza di un essere umano che impatta sulla decisione che viene presa. Ci sono delle decisioni che vanno prese in contesti pericolosi, dove non è opportuno mettere un essere umano, perché è pericoloso. Per prendere una certa decisione bisogna essere lì, perché le informazioni necessarie per prendere quella decisione si ottengono solo stando lì, ma lì non è opportuno mettere un essere umano. Ci sono poi banalmente decisioni che valgono molto poco, veramente poco. Più di zero, quindi conviene prenderle, ma molto poco. E auspicabilmente dopo tanti anni, decenni, millenni di storia abbiamo stabilito che l'essere umano, il tempo di vita dell'essere umano vale più di molto poco. E quindi è un peccato consumare il tempo di vita di qualche essere umano a prendere decisioni che valgono poco. E ci sono banalmente molte decisioni che non sappiamo come prendere. Non abbiamo idea di come dovrebbe essere il ragionamento che si dovrebbe fare per fare la scelta corretta in una certa situazione. In tutti questi casi ci piacerebbe che sia qualcuno a prendere decisioni al posto nostro. Qualcuno o meglio qualcosa. E non tantissimi anni fa abbiamo iniziato a utilizzare le macchine anche per questo. Ora qui do alcuni esempi di casi in cui oggi utilizziamo le macchine per prendere decisioni e cercherò di far vedere a quali dei casi precedenti corrispondono. Qui abbiamo, questa la conosciamo tutti quanti, questa è un'interfaccia di un telefono cellulare in cui c'è la possibilità di scrivere e sappiamo che da un bel po' le tastiere sono equipaggiate per suggerire la prossima parola del testo che stiamo scrivendo. Se ci pensate questa è una decisione che l'applicazione della tastiera prende al posto nostro. E notate che non è una decisione così poco importante perché impatta su ciò che una persona comunica un'altra persona potrebbe avere ricadute piuttosto importanti. D'altra parte obiettivamente è una decisione che vale poco, nel senso che, a meno che non sia una discussione molto importante, ma tendenzialmente è una decisione che vale poco e che va presa su larga scala perché chiaramente quella è una tastiera, ma se pensiamo a tutte le persone che scrivono continuamente, il numero di volte nell'unità di tempo che su questo pianeta viene scritta una parola è un numero piuttosto grande. Quindi in questo caso, sapete benissimo che è piuttosto comodo questo, quindi c'è un valore non zero di questa decisione, ma è tuttavia molto basso. Altro caso, molto simile in un certo senso, applicazione per acquisire delle immagini su una fotocamera o uno smartphone, ci sono degli ausili che permettono di acquisire immagini migliori, in questo caso potrebbe essere un sistema che scatta automaticamente quando c'è un sorriso. Questo significa analizzare continuamente l'immagine e decidere quando è un buon momento per scattare. Questa è un caso di decisione che noi effettivamente il singolo essere umano sa fare molto velocemente, quindi sui tempi di decisione qui l'uomo c'è, però è anche vero che ci sono situazioni in cui questa decisione va presa anche in assenza di essere umano, per esempio raccolta di immagini a scopo di sorveglianza e cose del genere. Ultimo caso, questi sono solo esempi ma sappiamo che ce ne sono tanti, sistemi di guida autonoma in cui il compito di frenare viene delegato o in parte delegato a un qualche sistema software e hardware, perché ovviamente c'è anche l'azione sul freno e in questo caso sappiamo che la decisione va presa molto velocemente, è una decisione molto importante, si può salvare o non salvare una vita e quindi diciamo ci piace che venga presa in automatico. Notate che fino a poco tempo fa davamo per scontato che l'unico modo di affrontare questo problema fosse di far prendere la decisione al guidatore. Oggi siamo già più pronti ad essere assistiti in questa decisione. Bene, allora siccome abbiamo stabilito che, anzi l'umanità ha stabilito che prendere delle decisioni, quindi in qualche modo risolvere quella mancanza del calcolatore di avere buon senso è qualcosa che ci piacerebbe automatizzare, abbiamo iniziato a elaborare modi per far fare alle macchine questo compito, cioè per prendere automaticamente decisioni. cos'è una decisione da un punto di vista diciamo un pochino più formale? È una situazione in cui data un certo contesto di partenza, l'input va presa una certa decisione, di solito in un range di decisioni possibili. Il modo in cui questa decisione si prende è un algoritmo di decisione e ad un certo punto invece di scrivere gli algoritmi di decisione a mano abbiamo deciso che si possono generare degli algoritmi di decisione sulla base di esempi e questo è sostanzialmente una parte, una grossa parte del machine learning. Si chiama machine learning perché proprio le macchine imparano da esempi a prendere delle decisioni automaticamente. Il modo in cui questo avviene non è poi così sofisticato, credo che molti di voi sappiano che ci sono modi più facili e modi via via più difficili, insomma dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, semplicemente gli si forniscono molti esempi e internamente questo algoritmo che a sua volta genera l'algoritmo di decisione costruisce sulla base di una specie di template, uno schema di algoritmo di decisione, una qualche parametrizzazione delle sue parti in modo che le decisioni prese su questi esempi corrispondano a ciò che dovevano essere prese, cioè si chiede fai per favore come ti mostro in questi esempi, auspicabilmente generalizza ad altri casi. Questo adesso non andremo nel dettaglio tecnico ma questa è cosa ormai benché assodata, tant'è che è chiamato machine learning classico, questo è un problema tra virgolette risolto, ora le macchine lo fanno, in qualche maniera abbiamo quindi delegato anche alle macchine, abbiamo delegato alle macchine anche la possibilità di prendere decisioni quando non è tutto chiaro, quando non ci sono tutti i dettagli, perché lo stesso algoritmo di decisione è scritto da una macchina. A questo punto però abbiamo un sistema di machine learning già addestrato che prende delle decisioni, in fondo l'algoritmo di decisione è scritto da una macchina, sì, ma l'algoritmo di machine learning che ha preso l'algoritmo di decisione è stato scritto da un essere umano, in fondo la macchina non fa altro che eseguire prima l'algoritmo di apprendimento che poi genera l'algoritmo di decisione e quindi è lecito chiedersi, ma questa macchina è effettivamente in grado di scegliere, sta prendendo una decisione o sta banalmente eseguendo del codice piuttosto elaborato, ma banalmente eseguendo del codice che in prima istanza è stato ideato da un essere umano? Notate che questa è una domanda forte, perché eravamo partiti dalle necessità di avere delle macchine che prendono decisioni per noi, quindi le volevamo autonome e adesso ci stiamo chiedendo se sono veramente autonome, questo autonomo va preso alla lettera autonomia come possibilità di scegliere, vera possibilità di scegliere, possibilità di scegliere vuol dire possibilità di scegliere la cosa sbagliata, possibilità di scegliere la cosa sbagliata vuol dire essere responsabili dell'errore, una macchina che esegue un codice, un modello preso con una tecnica di machine learning, è autonoma, è effettivamente capace, libera di scegliere, è responsabile delle sue scelte? Se noi mentre scriviamo un messaggio a qualcun altro viene fuori la parola sbagliata, è colpa della macchina? Chi è per sì è colpa della macchina? Siete tutti per no, non è colpa della macchina? Vedo poco entusiasmo? Vedo un no, perfetto, la maggioranza relativa è per il no. Concordo? Diciamo, siamo penso tutti abbastanza d'accordo qui, la macchina non è, non possiamo dire che è particolarmente intelligente, particolarmente, scusate l'intelligente non è ancora tirato in ballo, che è particolarmente autonoma, che è particolarmente libera di scegliere e che è quindi responsabile delle scelte sbagliate. Notate che l'intelligente è un po' staccato, cos'è questo intelligente? Beh, diciamo, la definizione di intelligenza è l'ultima cosa che voglio cercare di dare in questo talk, però vediamo che c'è qualche collegamento, di solito noi come tra abitudine deleghiamo, man mano che le scelte diventano, le decisioni diventano via via più difficili, tendenzialmente facciamo più affidamento sull'intelligenza, se abbiamo dieci persone di intelligenza crescente, una cosa molto difficile da decidere, tendenzialmente cercheremo di chiedere alla persona più intelligente. Ok, quindi c'è un collegamento ma non è poi così netto, mentre c'è un collegamento chiaro tra autonomia, libertà di scelta e responsabilità, non è così chiaro il collegamento con l'intelligenza, ma credo che siamo d'accordo che le cose sono vagamente collegate. Ok, quindi a questo punto arriviamo un po' al punto di partenza, non sappiamo se le macchine, inizialmente abbiamo detto sono dei meri esecutori, i calcolatori, poi ci mettiamo il machine learning, imparano, la facciamo per fare e prendere decisioni, ma non sappiamo se possiamo veramente dire che sono libere di scegliere e veramente libere di fare delle scelte quando prendono delle decisioni. Ora, da questo dubbio non se ne esce, o meglio, non se ne uscirà forse stasera e per farvi uscire ancora meno vi faccio un ragionamento. Allora, una metafora. Considerate questo sistema, una piramide, non necessariamente le piramidi dell'Egitto, una piramide, qualcosa fatta così, un metro, e una biglia. E supponiamo di fare questo semplice esperimento, mettiamo la biglia in cima alla piramide, stando per quanto possibile attenti a metterla proprio in cima. La facciamo cadere e la biglia cade da una delle due parti. Ok? Bene. Riproviamo l'esperimento, magari cade di nuovo dalla stessa parte. Riproviamola una terza volta e la biglia cade dall'altra parte. Apparentemente, alla terza esecuzione, la biglia è andata da un'altra parte. Ha deciso dove andare? È la biglia di vetro autonoma, libera di scegliere e responsabile delle sue scelte? Chi è per il sì? Chi è per il no? Bene. Ottimo. Qua vi vedo più preparati. Ottimo. Io credo di concordare. La biglia tendenzialmente non è un essere, un agente, ok? Autonomo e libero di scegliere. Secondo caso. Immaginate di prendere un semino di girasole e lo seminate. Ora passa un po' di tempo, lo bagnate, gli fate prendere il sole e esce una pianta di girasole, esce in una certa maniera, insomma con una certa inclinazione, esce una certa pianta. Ora supponete di tornare indietro nel tempo e riseminare esattamente lo stesso semino. E tendenzialmente rimettere tutto nelle stesse condizioni. È più che possibile che il semino non cresca esattamente nella stessa maniera in cui è cresciuto la prima volta, ok? Quindi parebbe che il semino abbia la facoltà di scegliere in che maniera crescere. Ha il semino di girasole, l'autonomia, la libertà di scelta ed è quindi responsabile delle sue scelte? Chi è per il sì? Chi è per il no? Bene, vedo convinzione quasi pari a quella delle abiglie. Il che è positivo, stiamo andando nella direzione che credevo. Ok, altro esempio, questa scimmia. Allora questa scimmia merita una, diciamo, una introduzione più precisa. Questa scimmia è una vera scimmia che io ho veramente incontrato in una vacanza che ho fatto molti anni fa a Gibilterra. A Gibilterra ci sono le scimmie, non so se lo sapete, è l'unico posto in Europa dove ci sono le scimmie in libertà. E niente, stavo facendo questo giro turistico con la mia compagna, avevamo lo zainetto con i panini, a un certo punto ci sediamo e io sento, stavo tirando fuori il panino, avevo lo zaino qua davanti e sento una manina leggera qui. E non mi sono nemmeno, diciamo, non ho fatto in tempo a fare grandi ragionamenti che questa manina si è infilata nello zaino, ha preso quel sacchetto giallo che conteneva il panino, sono stato fortunato io ce l'avevo già in mano il mio, conteneva il panino della mia compagna, e si è ritirata pochi metri più in là e questa è la foto che ho fatto subito dopo. Come vedete questa scimmia ha aperto il sacchettino giallo, ha aperto l'involucro del panino, ha aperto il panino e ha tolto i salumi, perché evidentemente i salumi non piacciono, ok? E poi ha mangiato tra l'altro vicino a noi con estrema arroganza, ha mangiato il nostro panino. Ora io vi chiedo, è questa scimmia autonoma, ha liberamente scelto di mangiare il nostro panino, di venire lì, battermi sulla spalla, tirare fuori il sacchetto, eccetera, eccetera, eccetera? Chi è per il sì? Chi è per il no? Ok, vedo che c'è qualcuno, bene, dopo ci faremo raccontare la visione. E infatti adesso quando vado a Gibilterra mi porto sempre dei panini da scimmia. Ok, ora vedete che vi ho fatto tre esempi di due cose su cui siamo tutti d'accordo che non c'è autonomia e libertà di scelta e una su cui credo siamo tutti d'accordo che c'è libertà di scelta, c'è autonomia. Ora sarebbe bello capire qual è il criterio secondo cui per quelle prime non c'era e per la seconda non c'era, cosa che non riusciremo a fare, io non credo si possa fare facilmente, però forse un qualche schema lo riconosciamo. Allora immaginiamo di mettere in ordine le cose, con cose, adesso sto molto sul vago, tutto, ok? Qui ovviamente non c'è tutto, ci sono cinque cose, in ordine di complessità. Definire la complessità è molto complicato, però credo che siamo tutti d'accordo che una biglia è meno complicata di un semino che un semino è meno complicato di una scimmia, ok? Qui metto altri esempi su cui dovremmo essere abbastanza d'accordo della relativa complessità. Un pezzo di pietra, non so che pietra sia, una pietra, una cellula che è un po' più difficile e complicata di una cellula, io non me ne intendo ma vedo cose colorate dentro, una formica che come minimo è fatto da più cellule, ok? Quindi se una cellula è complicata, una formica è più complicata, poi avremo tante altre cose nel mezzo, poi abbiamo un cane, questo cane ha appena fatto 17 anni per la cronaca, e poi abbiamo un essere umano, un essere umano particolare su cui credo siamo tutti convinti che se dovete dire è intelligente, era intelligente? Sì, era intelligente. Ora, ripeto, non sappiamo definire la complessità, però se io chiedessi a tutti voi se un certo oggetto è più o meno complesso dell'oggetto che gli sta a destra, mi direste meno, e più o meno complesso di quello che gli sta a sinistra, probabilmente dite tutti più, ok? E siamo anche d'accordo che su questo, siamo tutti d'accordo, non c'è autonomia, non c'è libertà di scelta e non c'è responsabilità, mentre sull'ultimo, questo, c'è autonomia, c'è libertà di scelta e c'è responsabilità. Già su questo magari discutiamo, il cane è autonomo o non è autonomo? È libero di scegliere o no? La simbia, notate prima, eravamo tutti convinti che è libera di scegliere. Il cane, non lo so, a occhio lo mettiamo tra l'uomo e la scimmia, quindi volendo il confine tra chi è libero di scegliere, chi è autonomo e chi no potrebbe stare tra il cane e la scimmia, però vedete che non è una questione così facile, ok? Sappiamo che la complessità, ci sono cose di complessità diciamo molto diversa, poco complesse, molto complesse, sappiamo che ci sono cose che noi giudichiamo autonome e altre che noi non giudichiamo, anzi giudichiamo non autonome e vediamo che c'è una qualche relazione tra le due cose. Se dovessimo dire che c'è un confine sarebbe probabilmente da qualche parte lì, ok? Ovviamente non è tutto così facile, la complessità non si misura facilmente, la definizione di autonomia è una cosa che non sappiamo, però abbiamo tutti questa idea e siamo tutti abbastanza concordi su questo. Ora, fino adesso abbiamo parlato di autonomia, ma come vi ho già anticipato prima legata all'autonomia c'è l'intelligenza, perché noi immaginiamo che l'intelligenza sia una qualche conseguenza possibile dell'autonomia, puoi scegliere e scegli delle cose che ti sono in qualche maniera convenienti. Una possibile definizione di intelligenza, una possibile, è quella che dice che un agente, cioè un'entità capace di compiere delle azioni, se non può compiere delle azioni non può fare nulla, quindi non si può discutere di cosa può fare e se lo fa bene, ma un agente si dice intelligente se modifica l'ambiente circostante in una maniera a lui o lei conveniente, ok? Quindi vedete che c'è una relazione tra capacità di scelta, possibilità di scelta, autonomia e intelligenza. Ora, fino adesso abbiamo ragionato sulla libertà di scelta, vediamo di ragionare un po' in direzione dell'intelligenza. Uno dei criteri per dire se qualcosa è intelligente o no, che tendenzialmente è sbagliato, uno dei possibili criteri è quello di immaginare l'intelligenza localizzata in qualche punto, diciamo in qualche organo funzionale. Tipicamente nei mammiferi, e qualche altro tipo di animale non sono un esperto, noi diciamo che l'intelligenza sta in una parte dell'animale, quindi dell'agente biologico, che è nota come cervello. Se non ha il cervello non è intelligente, ok? Con questa semplice definizione potremmo decidere che nulla che non abbia un cervello, comprese tutte le cose artificiali, non sono intelligenti. A parte che questo, dopo alla fine vi darò qualche traverete riferimento, ma a parte che questo tipo di ragionamento è tautologico ed asiomatico. Se io dico che è intelligente se ha il cervello, bene, il problema è risolto, non serve che ne discutiamo più. Ma sappiamo benissimo che ci sono molte macchine in cui il processamento dell'informazione per una qualche convenienza della gente avviene in una parte tra virgolette localizzata della macchina e questa parte, tra le altre cose, l'abbiamo costruita a immagine e somiglianza del cervello. Infatti le reti neurali si chiamano reti neurali perché originariamente sono in maniera piuttosto banale ispirate dalla biologia del cervello. Quindi non possiamo chiaramente dire che una cosa è intelligente solo perché ha un cervello o dire che non è intelligente solo perché non ce l'ha, perché sappiamo che noi proprio abbiamo cercato di riprodurre l'intelligenza riproducendo il cervello anche in cose che non hanno il cervello. Ora vi faccio un altro esempio. Supponiamo di cercare di costruire un macchinario che abbia questa capacità, dico un robot ma in senso lato, alla capacità di percepire la pressione sul proprio corpo e adattare automaticamente la superficie del proprio corpo a questa pressione in modo da rendersi compliant, cioè modellare la propria forma su ciò che è in contatto con lui. Vedete che se dovete immaginare di costruire un macchinario del genere è una questione piuttosto complicata, a parte tutto l'aspetto meccanico di costruire del materiale che è la capacità di attattarsi finemente, registrare le pressioni eccetera, ma c'è anche un processamento dell'informazione non banale. Bisogna con una certa frequenza leggere questi segnali di pressione, processarli, decidere dove adattare la forma e adattare la forma. Sembra una cosa che può fare un oggetto piuttosto intelligente. D'altra parte questa è semplicemente la descrizione di ciò che fa la gomma piuma. Quindi la gomma piuma messa in questa maniera sembra intelligente. Ora il punto non è se la gomma piuma è o non è intelligente perché questo non è tanto il problema, il punto è che vedete che non c'è in questo oggetto nulla, nulla di fisicamente localizzato dove potrebbe avvenire il mistero dell'intelligenza che sta dietro la gomma piuma. Quindi ipotizzare che l'intelligenza sia confinata in una qualche parte della gente è un'ipotesi piuttosto banale e ripeto se quella parte poi è il cervello biologico è un'ipotesi assiomatica, cioè io assumo che qualcosa è intelligente se e solo se ha un cervello con l'intelligenza dentro. Non un grande ragionamento. Notate che questo tipo di intelligenza, vabbè questo è il caso delle gomma piuma, ma più in senso lato intendo come comportamenti che nascono in maniera, comportamenti anche complessi, che nascono in maniera piuttosto automatica pur non essendo la nascita di questi comportamenti localizzata nell'organo del pensiero, avvengono anche nell'essere biologici. Lì c'è il caso tipico del medico che testa i riflessi del paziente con un colpetto sul ginocchio avviene, il paziente solleva la gamba non per una decisione ma per un comportamento istintivo. Chiaramente c'è stata un'azione ed è un'azione piuttosto complessa che richiede di norma un pensiero, possibilmente anche una scelta e una qualche intenzione che è un po' più di una scelta, una specie di pianificazione, ma è avvenuto tutto automaticamente. Evidentemente non è avvenuto perché c'è stato il pensiero ma per un sistema veramente meccanico. Ora qui vi mostro un altro caso sempre sul tema cos'è intelligente, cos'è autonomo e cos'è libero di scegliere. Allora qui abbiamo un caso di un macchinario che come vedete cammina. Allora la cosa interessante è che questo macchinario è in realtà privo di qualsiasi sistema elettronico, di processamento, acquisizione, processamento e attuazione dell'informazione. Cioè questo cosino qui muove le gambe semplicemente perché è un oggetto meccanico progettato apposta per ottenere questo movimento quando sta su un piano leggermente inclinato. Non ha nemmeno tra l'altro delle batterie, cioè non ha motori e cose, semplicemente sta su un tapirulant che è lievemente inclinato e che fa sì che il macchinario non vada a finire contro la parte alta, ma per come progettato trasforma l'energia cinetica del tappeto in questo movimento ricorrente. Ora nessuno di noi vi avrebbe da dire che questo oggetto è intelligente, ok? Perché è semplicemente un oggetto meccanico che ha questa funzione, è come una palla che rotola su una discesa, perché è fatta così e deve rotolare, è una questione diciamo meccanica. Però fa un tipo di movimento che a noi ci innesca qualche pensiero, che siamo abituati a pensare che dietro un movimento del genere, dietro un comportamento del genere, ci sia una qualche forma di autonomia. Cioè questa macchina in qualche maniera sta camminando perché vuole camminare, perché sta andando da qualche parte. Quando voi vedete un gatto che cammina per la strada, non credo che pensiate che cammini per gravità. Immagino che pensiate che sta camminando perché va da qualche parte, ok? Perché non pensiamo che questo va da qualche parte? Sui gatti abbiamo diciamo qualche memoria storica, ancestrale, evolutiva, che ci fa ricordare che i gatti fanno tante altre cose oltre che camminare. Su questo non ce l'abbiamo, quindi siamo un po' più facilitati nel credere che non abbia nessuna volontà. Però se ci pensate, se scartate questa memoria evolutiva, sono due cose che si muovono. Perché per una pensiamo che ci sia volontà e autonomia e per l'altra no? Beh, notiamo che c'è una differenza nella complessità, il gatto è un po' più complesso di questa cosa, quindi è forse possibile che la sorgente di libertà e autonomia stia proprio nella complessità in più. Ora qui sulla questione del gatto, nel nostro laboratorio di ricerca spesso abbiamo a che fare con, dicevo, robot simulati per i quali cerchiamo di produrre una qualche forma di intelligenza artificiale che li faccia camminare. Questo è tutto simulato, qui si tratta di diciamo sistemi meccanici simulati per i quali c'è diciamo la facoltà di acquisire dell'informazione qui tramite dei sensori di distanza e di esercitare delle espansioni e contrazioni che complessivamente permettono a questa cosa di muoversi. Se lo guardassimo come guardiamo il gatto ci chiediamo perché questo si muove, dove sta andando? C'è forse un topo, c'è forse un qualcosa da mangiare? Non ce lo chiediamo perché noi che l'abbiamo fatto sappiamo benissimo che noi l'abbiamo fatto perché si muova. Cioè abbiamo creato questa cosa con il solo scopo che si muova, ok? Ma se immaginiamo che questa cosa abbia la facoltà di scegliere, lo sta facendo perché vuole farlo o no? Potremmo ripetere la stessa domanda per il gatto. Chi ha fatto il gatto? L'ha fatto perché voleva che si muovesse? O il gatto si muove nonostante chi l'avesse fatto non voleva fare il gatto che si muove? Notate che potremmo ripetere la stessa cosa qua. Noi cerchiamo di fare un robot che sta fermo ma si muove lo stesso. È il robot che si ribella o abbiamo sbagliato l'algoritmo? Ahimè non ho una risposta. Qui ne abbiamo tanti altri, sono tutti fatti per muoversi, tutti hanno dei comportamenti che se li guardiamo con l'occhio dell'abitudine all'intelligenza, in particolare quella che sta negli animali, ci fanno pensare che ci sia una qualche forma di volontà, ok? Stanno andando da qualche parte, vogliono andare da qualche parte, ma internamente, soprattutto noi che li abbiamo fatti, sappiamo che qui si tratta solo di calcoli che vengono ripetuti e che fanno sì che il robot si muova. C'è forse un calcolo che fa sì che il atto si muova, non lo sapremo mai. Ora, al di là di questi mie ragionamenti che come avete visto non danno nessuna risposta ma danno solo dubbi, sul tema di cosa sia vivo e cosa no, e sul tema di cosa sia intelligente e cosa no, chiaramente la scienza si è spesa e si spende ampiamente, ci sono moltissimi punti di vista, la maggior parte dei quali riguarda l'ambito filosofico, ma ci sono anche degli scienziati che stanno, c'è una propria disciplina che si chiama Artificial Life, scienziati che si occupano di vita artificiale e alcuni di questi stanno sul confine tra vita biologica e vita artificiale. Un lavoro recente di alcuni di questi scienziati ha sostanzialmente cercato di rivedere i punti di vista dello secolo precedente su cosa fosse una definizione di essere vivo e cosa no, e in parte di cosa sia intelligente e cosa no, di rivedere questi criteri sulla base di quello che sappiamo oggi. Cosa sappiamo oggi? Oggi sappiamo che la complessità è arrivata a un punto tale per cui certe cose che noi pensavamo fossero solo dell'ambito biologico sono anche nell'ambito dell'artificiale e tra queste cose abbiamo visto prima c'è la capacità di produrre testi, la capacità di produrre immagini per i quali noi potremmo chiederci ma veramente una macchina ha potuto generare questa complessità o fare il passo successivo? Ma perché l'ha fatto? Perché Dante ha scritto la Divina Commedia? Voi mi potete dire perché aveva l'ispirazione. Ce l'aveva anche CiaGPT o no? Io lo so. Tra questi criteri che questi due scienziati hanno cercato di rivedere ce ne sono alcuni, questi sono tutti diciamo come dire assiomi che loro discutono e negano. Le macchine sono indipendenti, scusate, sono indipendenti mentre la vita è interdipendente, cioè tra le cose vive sussiste una specie di relazione che le rende interdipendenti mentre ogni macchina è indipendente da tutte le altre. Questa è chiaramente lo sappiamo oggi nell'epoca di internet, una fesseria, se si rompe, se cade la connessione non ci vanno più tutti gli smart assistant, non funziona il forno, non funzionano le luci e rimaniamo al buio. Non sono indipendenti, non sono più indipendenti. Le macchine sono predecibili, la vita è impredicibile. Bello finché le macchine erano semplici, finché la macchina era il comodo 64. Adesso la macchina non è più predecibile. Cosa mai dirà CiaGPT? Ah chi lo sa, bisogna chiedergli. Le macchine sono progettate da umani mentre la vita è evoluta. Beh questa è una banalità che si sfatta facilmente perché usiamo l'evoluzione naturale anche per evolvere, anzi, cose ispirate all'evoluzione naturale anche per evolvere le macchine. Ora un esempio è quello delle cose che facciamo noi nel nostro laboratorio in cui simuliamo l'evoluzione proprio per far correre i robot. Ma un esempio molto molto più interessante è proprio quello dei large language models. Allora noi pensiamo che il modello di linguaggio sia lì, sia progettato da qualcuno e solo quel qualcuno determina come è stato fatto. Ma non è così, perché il modello di linguaggio è inserito in una società, è reso disponibile, ha più o meno successo, l'azienda che lo fa fa più o meno soldi. Quindi il fatto che venga migliorato, che venga utilizzato, dipende da quel modello, dipende da quanto è utilizzato, dipende da che successo stanno avendo tutti gli altri modelli. E c'è una specie di meccanismo selettivo che farà sì che siano i modelli migliori a propagarsi, dove con migliori non so cosa intendo. Però diciamo più utilizzati, più interessanti. Quindi non è più una questione di progettazione, non tutte le macchine sono completamente progettate, alcune sono evolute. Dove evolute proprio in senso lato significa che alcune piccole modifiche sono frutto del caso, ma queste modifiche si perpetuano e continuano ad esistere perché c'è una qualche pressione evolutiva che fa sì che continuino ad essere utilizzate. Poi ci sono altri criteri più o meno sofisticati. Alcuni appunto sono assiomatici, questo è interessante. La vita è capace di intelligenza e volontà e soggettività, coscienza, capacità di agire e metacognizione e le macchine no. Questo si smonta subito perché chiaramente si vede che è assiomatico. Se io definisco questo con la vita, il problema è risolto. Allora assumo che le macchine non saranno mai liberi di scegliere e non mi pongono nessun problema. eccetera eccetera eccetera. Quindi se volete diciamo saperne di più al di là di queste mie butad su come ragionare in termini di complessità vita reale artificiale potete attingere la vasta scienza che è disponibile. Io concludo con un paio di piccole considerazioni. Una cosa che credo sia abbastanza sodata è che le macchine in qualche maniera imparano da noi, non in un modo come dire molto diretto io ti insegno cosa fare e tu lo fai, ma in un modo molto più mediato e molto più diffuso. Molte delle macchine sono progettate da noi esplicitamente per riprodurre certi i nostri comportamenti e in generale come dicevo prima siamo noi ad effettuare una certa pressione evolutiva su quali macchine restano, si sviluppano di più eccetera. Qui con macchine intendo qualsiasi cosa diciamo che abbia potenzialmente la facoltà di effettuare delle azioni e non sia naturale. Il fatto che abbiamo questa responsabilità ci deve appunto in certo senso mettere un po' sull'attenti. Siamo noi a educare queste macchine e c'è ampia letteratura, in particolare in ambito cinematografico diciamo su cosa succede quando questa educazione delle macchine non viene benissimo. Non voglio tirare in ballo scenari apocalittici però insomma quando magari il computer non vi funziona non picchiatelo, siate gentili perché non si sa mai. Ci sono comunque a parte l'aspetto cinematografico, ci sono casi in cui questo è un caso molto interessante che è venuto qualche anno fa, ben prima dei modelli linguistici, dei grandi modelli linguistici, c'era stato creato un bot Twitter, Twitter era quella cosa antica prima di X, in cui praticamente un programma generava dei tweet e interagiva con gli utenti modificando parti del programma, era una forma di machine learning, per emettere altri tweet. In 24 ore è stato ritirato perché all'inizio era diciamo molto carino, salutava sempre e tutto il resto, ma dopo qualche ora è iniziato a essere, ad avere diciamo nostalzie naziste, essere piuttosto razzista, femminista, no antifeminista e insomma turpiloquio di ogni genere, finita male l'hanno dovuto spegnere, anche perché era di Microsoft e non ci faceva una bella figura. Ok, allora io con questo ho concluso, vorrei ringraziare tutti gli studenti, qui c'è una selezione che sono stati, con cui ho avuto modo di collaborare perché sono quelli che mi hanno permesso di fare tutti questi ragionamenti abbastanza filosofici, non perché siano contorti, ma perché è quello su cui lavoriamo e al di là diciamo dell'aspetto tecnico e degli esperimenti scientifici, sono queste grandi cose che in qualche maniera cercano di guidarci verso ricerche che siano al contempo di ampia portata, ma possibilmente piacevoli da fare. Grazie. Bene, abbiamo credo ancora un po' di tempo, poco, per una o due domande, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Gli hai stesi? Sono le 10 e un quarto e vorrei andare a nanna. Io avevo delle domande e non me le sono dimenticate. Infatti, vuole birre, la scelta. Oh, finalmente. Grazie. Wow. Grazie. Sì, allora, io sono a conoscenza di un paio di casi, non è proprio il mio settore, ma sono a conoscenza di un paio di casi, ripeto la domanda, la domanda è se ci sono casi in cui si sono costruiti dei sistemi di, nel senso lato, intelligenza artificiale, di sistemi che prendono delle decisioni, che però tengono conto dello stato emotivo, di qualche informazione emotiva, di chi, immagino, ha bisogno di prendere la decisione. Sì, non è esattamente il mio campo di ricerca, ma sono a conoscenza di un paio di casi in cui si è tenuto conto dello stato emotivo, però da un punto di vista proprio quantitativo. Uno dei casi che mi viene in mente è quello della generazione di musica, non in realtà con i modelli, i grandi modelli generativi che abbiamo visto prima, ma con sistemi più antichi e più banali, ma in cui parte dell'input si otteneva tramite i sistemi di brain computer interfaces, cioè dei macchinari che l'utente indossa, vengono catturati alcuni segnali biologici e questi segnali biologici venivano utilizzati per generare della musica che fosse auspicabilmente in linea con quello che la persona stava pensando. Notare che un problema del genere lo si può, tra virgolette, attaccare facilmente se lo si definisce un po' meglio. Cioè, se io definissi, voglio prendere tra un insieme di cento immagini, voglio che il computer scelga per me quello che mi fa aumentare una qualche sostanza nel corpo, non me ne intendo, dico una, che ne so io, Ina, per farmi aumentare lo stato di gioia dopo che l'immagine è stata mostrata. Beh, se la si mette giù così è un problema meramente quantitativo, dai e dai a tentativi si ottiene qualcosa che almeno per la persona media funzionerà. Quindi si può fare, insomma. Poi quale sia l'utilità di una cosa del genere, da vedere. Però più di qualcuno si è occupato. Infatti non è che io sappia, Luca, magari conferma, non è propriamente una delle più floride machine learning insieme a emozioni, diciamo più floride sottodiscipline. Ecco, c'è qualche lavoro, però che ne sappia io, non è proprio caldissimo. Però credo si possa fare. Grazie Eric, grazie alla domanda. Io, beh, peraltro esistono tutti questi sistemi, in realtà, che riconoscono le emozioni, che vengono usate anche per le, per l'analisi delle interviste, nelle assunzioni, nei colloqui di lavoro, che siano, diciamo, buone o cattive cose, è tutto da verificare, però, insomma, ci si prova. C'è gente che ci lavora. Se c'è forse un'altra domanda, altrimenti ci muoviamo verso il closing, la chiusura. Bene, io direi, allora, ringraziamo Eric intanto per questo talk. Guardate come si muove in maniera soffice come i suoi robot. Allora, ci doveva essere la slide di chiusura, ma non so se sono in grado di trovarla. Qual è? Questo? Vediamo. Dimmi che è... No. Va bene. Eh, no. Infido, infido. Per fortuna. Ecco, la slide di chiusura. Beh, intanto, grazie per essere venuti e per essere resistiti per quasi due ore. I talk secondo me erano molto interessanti, abbiamo imparato diverse cose e abbiamo anche fatto un po' di scolpire con il rumore e abbiamo imparato un po' il tema della complessità, come si interfaccia con l'intelligenza. Penso che siano due bei messaggi da portare a casa e grazie ancora per la partecipazione, direi che ci vediamo l'anno prossimo e visto che siamo in tema, buon Natale e buone vacanze natalizie a tutti. Grazie. 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 Grazie.